Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla, benvenuti in un nuovo video, oggi ci troviamo su Hyper Escape Per chi non conoscesse Hyper Escape, ragazzi, questo è un nuovo Battle Royale di Ubisoft Veramente, veramente figo Ve ne parlo un po' velocemente, ci troviamo all'interno di una simulazione di videogiochi E praticamente all'interno di questa simulazione i giocatori devono contendersi, insomma, la corona per ottenere la vittoria Non sto qui a scendere nello specifico, voglio parlarvi principalmente dell'aspetto, diciamo, di gameplay vero e proprio E ragazzi, a me questo gioco piace veramente un botto Mi piace soprattutto perché è molto differente da tutti i Battle Royale che abbiamo visto fino ad ora in diverse meccaniche Che ora scoprirete guardando il video Quindi intanto vi lascio e fatemi sapere anche voi che ne pensate Ok ragazzi, quindi siamo su Hyper Escape Questa è la mappa, come potete vedere ci sono comunque delle zone che io definirei arancioni a tutti gli effetti Che sono le zone principali distretti, mentre invece le più piccole sono invece zone secondarie Ok, quindi ci siamo ragazzi, siamo con le nostre capsule Vediamo dove ci vogliamo lanciare Ok, i nostri compagni si vogliono lanciare a Front Hall E vabbè, proviamo Che poi tra l'altro sembra molto Notre Dame Sì, no, credo, credo che sia proprio Notre Dame Sì, sì, è decisamente Notre Dame Tutto l'ambiente è molto francese Si vede proprio che questo è un ambiente urbano francese Cioè, te lo lascia facilmente intendere un po' il tutto Anche comunque il paesaggio urbano è molto all'asse, si credo unity per capirci Un attimo evitare di stare in sta zona però Perché già vedo gente e io ho una mazza a mano che non è proprio il top Un attimo, queste sono le finestre ragazzi, sono finestre virtuali Le quali per entrare tu devi praticamente sfondare Ho trovato l'abilità rivelazione che posso potenziare e mina Ora rivelazione mi rivela i nemici nelle mie vicinanze Più potenzio l'abilità trovando altre rilevazioni Più il raggio aumenta Tra l'altro guardate ragazzi, io ho trovato un altro fucile a pompa Completamente uguale a quello che avevo già trovato Ma dato che ne ho trovato un secondo Io posso potenziare la mia arma di base Che è veramente una cosa fighissima Tra l'altro il mio amico è stato eliminato Ma siamo separati, cioè questa cosa non è nel top Cioè quindi ora per rianimare i tuoi compagni Devi fare delle kill necessariamente E questa secondo me è una cosa veramente figa Una cosa veramente figa Attenzione, attenzione, attenzione Ok, il mio compagno sta su una tomba come potete vedere Anche se siamo un attimo circondati da nemici Non è che mi fiderei molto di far sta cosa Io ce provo Io provo a rianimare Vedo se riesco a fare una cosa sneaky sneaky Credo di no sinceramente Però ora me ne vado Ciao Vediamo se riusciamo Ci stanno a sparare Mi sembra di sì Se non sbaglio Ciao ci hanno rivelato Ciao ragazzi Io scappo Non lo so Io ce voglio provare però Bam Proviamo lì 50 Uh 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 calmi No, 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 no Questi sono pericolosi Questi sono pericolosi Fratelli Ricarica una cosa veloce Grazie Io Sti tipi veramente mi fanno un botto paura Queste armi Perché hanno pure loro La mia arma raga Che è fortissima Cioè veramente sarebbe capace Non dico di shottare Però leva tipo metà vita Cioè capito come Solo che Vabbè ci mette un po' per ricaricare Ma quello Lo trovo più che normale Attenzione raga Attenzione Oh ma 59 E 29 alla volta E fratelli E nam 29 Stai scherzando Basta un colpo Basta un colpo Fratelli Dai porca miseria Ma i miei amici Cosa stanno facendo Che qua dentro sto Fai solo io Mezzano tre dam Cioè sono molto confuso Fratelli Molto confuso Devo scappare Devo scappare Perché credo che Mi stiano addosso un po' Uno ha utilizzato l'abilità palla Sì c'è un'abilità palla Se ve lo stesse chiedendo Quanta gente ci sta Ci stanno mantenendo in sé Raga no 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 Sta cosa non mi piace Ci stanno tenendo in safe Guardate guardate Ci vogliono oldare Raga io scappo Io scappo Ciao Ok raga mi servono armi Un attimo più forti Perché quel fucile a pompa Non mi convince per nulla L'arma di destra Più sì Il danno non è per nulla male Vediamo qui che ci sta Ah questo aumenta il danno Madonna Serio Se questo aumenta il danno Diventa tipo l'arma più forte del gioco Fratelli Tra l'altro appena possiamo Dobbiamo vedere se riusciamo a rianimare Il nostro amico Che sta lì Come potete vedere ragazzi Un fantasma Che aspetta Noi Che eliminiamo un nemico In modo da poterlo utilizzare Tipo la sua tomba C'è capito come Io quasi quasi Raga mi prendo un fucile d'assalto A posto del Del mio fucile a pompa Pure che di livello 1 Non fa niente A parte col gente in testa Raga Uh via 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 raga Decisamente via Mi curo Questo me lo posso Tranquillamente eliminare Ok Ottimo Se il mio compagno Arriva qui Lo rianimo Se vuole aspettare tempo Poco non è un fatto mio Fratelli Fratelli una cosa veloce Te prego che ti devo rianimare qua Ho fatto la kill Uh posso aumentare Il caricatore dell'arma Perché ho trovato Un potenziamento Ottimo Ok il nostro compagno È stato rianimato Perfetto Perfetto Il settore si sta chiudendo Ragazzi dobbiamo Vabbè spostarci In realtà di poco Oh cos'è Ah ok il nostro compagno Che provava l'arma Mamma mia che panico Fratelli Stanno larga Guardate Stanno là Io vorrei pusharli Vorrei pusharli Se i miei compagni Mi accompagnano Nesta cosa Ma sinceramente Non credo Vediamo quante ne prendo Dai Madonna Nulla Posso potenziare l'arma Però lo faccio Veloce da recupero A posto Vediamo raga Se riesco Posso fare così L'ho colpito 65 È morto È quasi morto Devo fare così Raga Altrimenti questo Mi fa male Devo buttarmi ci dentro Cavolo Mi ha colpito Mi ha fatto malissimo A parte che questo Sta mettendo tutte mine Fratelli È nammo Dai dai Ok eliminato Mina non mi interessa Cura Questo mi interessa Cosa Ciao Fratelli Infatti che ho pochissima vita Cosa sto facendo Ragazzi Io sto facendo Una kill dopo l'altra Cioè veramente Scandaloso Mi faccio questa Non so quanto mi può servire Fammi la guarigione Un attimo Grazie Si sta chiudendo il settore Devo andarmene Ciao Devo anche mettermi l'armatura Che mi stavano a sparare Ovviamente Devo trovare un modo Per alzarmi E andarmene velocemente Perché ce li ho Tipo alle spalle Cioè Sono tipo morto Si si No raga Mi stanno proprio a sparare Alle spalle Oh bello questo Fratelli Questo mi piace Questo mi piace Fratelli Bello per te Siamo a 4 Raga Siamo a 4 Mi piace sta cosa No Questa cosa non mi piace Questa cosa non mi piace L'ho colpito Aiuto Mi hanno visto Mi hanno visto Però l'ho eliminato Bella Via non qui Non qui Sono I miei compagni sono morti Ah bello Fa piacere sta cosa Si è messo l'armatura Giustamente Ragazzi Ragazzi Potete farvi rianimare lì Per piacere Qualcuno salga lì Devo vedere di fare qualche kill E di rianimare Però Cioè Che cosa posso fare Raga Io c'ho tutto al massimo Cioè Non posso potenziarmi più nulla Ora devo solo giocarla Quasi quasi l'attivo eh Non si sa mai Dai Ripristina Una cosa veloce Fratelli Ciao Ok Io fuggo La gente ci spara Io però faccio così Scusatemi la mira ragazzi Veramente scandalosa Me ne rendo conto Vedete dove sta il mio compagno Ok Cerchiamo di stare vicini Te stanno a sparare Fratelli Te stanno a sparare Fratelli Dai che l'ho massacrato Fratelli A meno che non si è curato Sta là No dovevo ricaricare Me l'hanno rubata Cioè me l'hanno rubata Me l'hanno confermata Aia Gente Gente sopra Io rianimo Loro eliminano Mi sembra giusto No sono due Ciao 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 Devo vedere ragazzi Rianimare da qualche altra parte Attimo un attimo Sto arrivare Fratelli Sto arrivare Dammi un attimo Attivo la corazza Non mi hanno notato Non mi hanno notato Vai ragazzi Vai ragazzi Vai ragazzi Bella Mi hanno dato un assist A me va bene Madonna Corazza ora Me ne devo andare Me ne devo andare Che sta disgregando Questo palazzo Questa cosa Non mi fa per nulla piacere Dove dobbiamo andare In questo quartiere zero Ok Vado qui Scappo Dai Uh Madonna No no Ragazzi Me l'hanno visto di nuovo No ma sta un team intero Che sta su di me Devo cercare di entrare In un palazzo Ragazzi Stanno dietro al muro Non posso spararli Se non ora forse Aspettate mi serve La visuale buona su qualcuno E dai Porto di gamer Che sei scandalo Mannaggia Si sta chiudendo pure Sta zona Ah no Il settore Ok Non è detto che sia il mio Non è detto che sia il mio Bello Si sta disgregando qualunque cosa Ragazzi Credo che ora ci sia la corona Vi spiego che cosa è velocemente la corona In pratica La corona è un oggetto Che se noi otteniamo Riusciamo a mantenere per più di 8 secondi Anche se mi stanno sparando Quindi non credo di riuscirci Manco per 3 Se lo facciamo Ragazzi In pratica Cioè vinciamo la partita Quindi per ora Magari li faccio massacrare Un altro po' a vicenda E vedo se mantenere la corona O provare a pusciare Provo un attimo Tra l'altro i miei compagni Stanno ancora qui a darsele Cioè A nascondersi La corona Appare tra 20 secondi Appare lì sopra Ok Quello è stato eliminato Immagino Mamma mia Che ca... Oh Ma questo è nemico Sono morto Sono morto Utilizza tutta l'abilità contemporaneamente Ciao Prendi la corona È un parolone Fratelli Non so se te ne sei reuso conto Posso provare Raga Ma io credo che Le piglio Se ce provo Cioè Il premio il giocatore Con la corona Abbiamo 40 secondi Per eliminare il tizio Che ha preso la corona Certo Sicuro Sicuro Fratelli Sto già là Guarda Vediamoci riesco L'ho distrutto L'ho distrutto Fratelli Si ha messo Si ha messo il muro Fratelli Si ha messo il muro Fratelli L'ho eliminato L'ho eliminato io Ma serio Ciao Mi scappo Io mi limito a eliminare Il tizio che prende la corona Uno a uno Li riesco a eliminare Che dite Secondo me si può fare Cosa stai facendo tu qua Ciao Ragazzi dovrei smetterla Di fare questa follia Nemico rilevato Fratelli Un nemico Chissà quanti ce ne stanno Fratelli Tutti zitti Vedete Ne elimino uno Si rianimano No raga Devo provare a eliminare Quello con l'orona Dai raga Sta l'alleato Sta l'alleato Con il sbroccato Dovuto tagli al sicuro E dai Alleato Stanno ancora in tre Cribbio santo Attenzione Alleato Fa sta cosa Fa in fretta Peglia sta corona Fratelli Peglia sta corona Ah Mi vuoi rianimare Non so se ci conviene Te lo dico Vabbè Se proprio ci ritieni Io non mi offendo Eh però Se piglia la corona Nessuno si offendeva pure Io una piglia la corona Qualcuno ti sta rilevando Teoricamente siamo in due Quindi pure se mi rilevano A me non interessa Appena arriva C'è C'è una mazzettata sotto i denti E c'è No il fratelli ragazzi Si è offeso Non sta fusceando Ma che sta facendo Dovrebbe Oh Ok mi ha colpito Mi ha colpito Questa cosa non doveva andare così Pensavo che non mi fusciasse Invece l'ha fatto Ok ragazzi Si sta avvicinando Decisamente si sta avvicinando Devo fuggire Devo fare di tutto Per farmi lasciare stare Mancano pochi secondi Via Vinta L'ho vinta ragazzi Per forza Madonna Prima vittoria Super escape Andata 6 kill Credo Fratelli Musica Grazie a tutti.